Safegate Pro, igienizzare le persone, gli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza sempre e ovunque. Visita il nostro sito safegatepro.com Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Una perturbazione atlantica abbastanza estesa e ricca di aria instabile e in movimento verso l'Italia porterà un severo peggioramento delle condizioni meteorologiche da nord a sud e in particolar modo sul lato tirrenico, quello più esposto alle correnti umide e instabili atlantiche. Avremo anche precipitazioni al nord che hanno nevicate localmente fino a bassissima quota. Nel corso di questo, martedì 15 febbraio, in Abruzzo avremo un netto peggioramento per lo più nelle aree interne. Quindi in Apennino avremo precipitazioni diffuse, nevose, oltre generalmente i 1200-1300 metri di quota, quindi comunque in alta montagna, più in basso. Solo a pioggia, per quanto riguarda le coste e il primo entroterra, avremo tante nuvi, però fenomeni abbastanza deboli e disorganizzati. Qualche pioggia in più possibile solo in tarda e sera, mentre migliorerà gradualmente negli aree interne. Le temperature in leggero aumento a causa di eventi più umidi di liveccio, massime fino a 14 o 15 gradi sulle coste e le basse quote, nettamente più freddo laddove avremo precipitazioni, ovvero sui settori più interni montuosi. Grazie per l'attenzione, a tutti voi una buona giornata. Grazie per l'attenzione, agli ambienti e controllare gli accessi. Igiene e sicurezza, sempre e ovunque. Visite il nostro sito, safegatepro.com